Ciao ragazzi, un saluto da Zebra Bianconera. Allora, nel video di oggi vi voglio parlare di Mila Juventus, partita valevole per la 32esima giornata di campionato nella stagione 2015-2016. Fu quella grandissima stagione, la stagione della rimonta della nostra Juventus ragazzi, come vi dissi l'altro giorno, fu una grandissima stagione per noi e oggi vi parlo di Mila Juventus ragazzi, una grandissima partita che ci siamo conquistati tre punti importantissimi che ci hanno concesso di andare a più 9 sul Napoli, più 9 momentane sul Napoli e fu una vittoria importantissima che qualora avessimo perso o pareggiato quella partita per me il campionato sarebbe un po' cambiato. Bene, si parte. Primo tempo che inizia con un Milano che prezza altissimo, prezza altissimo, attacca, un Milano che attacca, è sceso in campo proprio per pressare alto e mandarti in difficoltà. Infatti all'ottavo minuto arriva un tiro cross di Abate che prende il paro esterno. Dopo un po' di minuti arriva un calcio di punizione per il Milan, limite dell'aria con Barotelli che caccia la punizione. Buffon salva sulla linea e poi il difensore della Juventus la manda fuori in calcio d'angolo. E dopo ancora un po' di minuti, verso il ventesimo minuto, arriva l'1-0. L'1-0 da parte del Milan che per noi è stata veramente una doccia gelata, però il Milan in quel momento lì stava giocando molto meglio di noi, devo dirvi la verità. E arrivò il gol di Alex con un gol di testa arrivante da un calcio d'angolo. Bene. Dopo i gol del 1-0 del Milan è arrivato il momento di vedere la vera Juventus, la vera Juventus, quella Juventus battagliera, quella Juventus che combatte, quella Juventus che ci crede ragazzi, quella Juventus che a me piace, quella che reagisce, reagisce, reagisce nei momenti no, reagisce quando siamo sotto. È quella la squadra, è quello il vero valore, il vero valore della nostra Juventus. E questo mi rende veramente orgoglioso di fare questa squadra. E infatti arriva l'1-1, l'1-1, con gol di Magyukic, il gol di Magyukic su Assets di Morata. Dopodiché abbiamo un'occasione per il Steiner, quel pallone che va fuori di poco, finisce il primo tempo. Nel secondo tempo non iniziamo bene, perché Milan all'inizio è di nuovo ad attaccare, come ha fatto all'inizio del primo tempo. Infatti viene un'occasione per Bacca, se vi tirare di gol da Montolivo, Bacca tira in porta. Lui è spinta di Buffon, quella cazzata che va sempre a Buffon, di spingere il pallone nel rea piccola. Arriva Barotelli, Barotelli tira in porta, prende la traversa, e poi dopo la traversa, segna di braccio con la mano. Infatti il gol è stato annullato, e Caterino giallo per Barotelli. Dopodiché si riprende la Juve, e viene una punizione per Pogba, che prende il paro esterno, purtroppo. E poi, e poi, arriva il 2-1. Il 2-1 arriva da un caccio d'angolo di Marchisio, arriva il pallone dentro in aria, Polbara, stoppa di Pet, fa una finta su Abate, e tac, di controbazzo! Segna, continua in posa di controbazzo, che beffa anche Donnarumma. 2-1 per la nostra Juventus. Poi la partita continua, noi gestiamo bene la partita, e finisce qua. Finisce 2-1 per la nostra Juventus, noi che ci andiamo a più 9 sul Napoli momentaneo. È bene così, ragazzi. Grandissima Juventus, grandissima la nostra Juventus. Bene ragazzi, con questo è tutto, vi auguro una buona giornata, e fino alla fine, forza Juventus, iscrivetevi al mio canale YouTube, e seguitemi anche su Instagram, su zebra-bianconera. Buona giornata a tutti ragazzi, ciao!